Il mio nome è Dalton Russell. Fatte attenzione a quello che dico perché scelgo con cura le mie parole e non mi ripeto un miau. Vi ho detto il mio nome. E questo è chi. Il dove lo potremmo descrivere come la cella di una prigione, ma in realtà è un trasportino. E non c'è molta differenza tra trovarsi dentro un trasportino e trovarsi in prigione. Il cosa è facile. Ho elaborato un piano in questi giorni per evitare di andare dal veterinario. Che è anche il quando. Il perché, a parte il fatto che voglio andare nel trasportino, è presto detto. Se mi portano dal veterinario o mi castrano o mi ficcano un termometro nel culo. Ci resta solo il come da spiegare. Ed è qui il grande gatto direbbe. Se vi piace chiamatemi Oscar.